Proiettili, armi e soldi in casa, fermato a Pian di Meleto, un uomo di 62 anni. Tre medici in arrivo al centro trascusionale di Pesore Fano, l'annuncio di Ser Filippi che commenta rispettato un impegno per rafforzare la sanità del territorio. A Mondolfo la giunta comunale ha approvato il progetto della ciclo pedonale che collegherà Centocroci a San Gervasio al via Il Cantiere nel 2023. Comune carnevalesca lavoro per la candidatura del Carnevale di Fano a patrimonio immateriale Unesco. Oggi un incontro a Roma con le autorità dei nuovi comuni firmatari del protocollo d'intesa. Volley della Befana ha consegnato l'assegno da 4.000 euro alla Fondazione Gio. Il fanese Manuel De Marc dona dieci penne a Pesore 2024, verranno reglate ad ospiti, artisti e personalità che visiteranno il territorio durante il grande evento. Un cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia in apertura alla cronaca con l'operazione dei carabinieri della Compagnia di Urbino che hanno sottoposto a fermo d'indiziato di delitto per ricettazione e detenzione illegale di armi da fuoco un 62enne originario di Alessandria. L'uomo è stato fermato a Pian di Meleto dove i militari nel corso di una perquisizione nella sua villetta hanno rinvenuto decine di proiettili, una pistola a tamburo con matricola a brasa e una seconda pistola, quest'ultima una veretta risultata rubata nella metà degli anni 90 ad un appartenente alle forze di polizia. Inoltre sono state sequestrate una carabina ad aria compressa e una pistola a salve, carica priva di tappo rosso. Oltre a questo i militari hanno trovato 9.000 euro in contanti e svariati assegni per un valore di 120.000 euro. Il giudice del Tribunale di Urbino ha convalidato il fermo e disposto per l'uomo la custodia cautelare in carcere. E' morta all'età di 76 anni Luciana Calcagnini, ex titolare del ristorante La Nuova Casaccia di Fosso Seiore, storica associata di Confesercenti. L'associazione di categoria in una nota ha espresso le sue condoglianze. Una professionista nel settore della ristorazione e una signora bella e gentile, ha dichiarato il direttore Ligurgo. Resta in noi un grande vuoto e una enorme tristezza, ma anche la gioia di aver condiviso un importante percorso lavorativo. Il ricordo del suo sorriso ci resterà sempre nel cuore. Ci spostiamo nel comune di Mondolfo dove il sindaco Nicola Barbieri ha annunciato buone notizie per la ciclo pedonale che consentirà di raggiungere in sicurezza il quartiere di Centocroci. E' stato approvato dalla Giunta Comunale di Mondolfo il progetto esecutivo della pista ciclo pedonale che collegherà Centocroci a San Gervasio. Con questo passaggio amministrativo si potrà procedere all'avvio della gara e al successivo affidamento dei lavori. La canterizzazione dell'intervento è prevista nel 2023. Stiamo portando avanti un'azione importante su tutto il territorio comunale di collegamento tra i quartieri con collegamenti per mettere in sicurezza i cittadini di tutti i quartieri del nostro territorio. Sono stati diversi gli interventi che abbiamo realizzato in questi anni come ad esempio la pista ciclo pedonale che collega il quartiere di Piano Marina a Marotta Centro, la riqualificazione del lungomare e anche il percorso ciclo pedonale che collega Centocroci a San Sebastiano. Il percorso si svilupperà su sede propria e si estenderà per 500 metri, un investimento considerevole di circa 200 mila euro, comprensivi di progettazione, spropri e lavori finanziati in parte con i fondi del bilancio comunale e in parte con fondi ottenuti dal Ministero dell'Ambiente nell'ambito del progetto FAMOSE dedicato alla mobilità sostenibile Casa Scuola Casa Lavoro. Per quanto riguarda gli altri interventi legati alla mobilità sostenibile, sono in fase di conclusione i lavori per la realizzazione del collegamento di via 25 Aprile via 1 maggio con la nuova ciclabile di Piano Marina e inoltre la Regione Marche sta per avviare i lavori per quanto riguarda l'importante infrastruttura del ponte sul Cesano in collaborazione con il Comune di Senigallia e il Comune di Mondolfo, quindi un'infrastruttura che permetterà di collegare le due città ed inoltre stiamo procedendo come amministrazione con l'acquisizione delle aree per la realizzazione invece della ciclovia del Cesano con un importante finanziamento che abbiamo ottenuto dalla Regione Marche di 800 mila euro che coinvolge tutti i Comuni della Vallata del Cesano con il Comune di Mondolfo a Capofila. Entro il mese di febbraio prenderanno servizio tre medici al centro trasfusionale di Pesaro e Fanno, lo fa sapere il consigliere regionale della Lega Luca Serfilippi, il quale sottolinea che l'obiettivo è stato raggiunto grazie alle numerose sollecitazioni che in questi mesi ha rivolto alla Regione dopo aver ascoltato operatori, associazioni e cittadini. Fa piacere, si legge nella nota, che anche il consigliere di opposizione Biancani in ansia d'annuncite si accorga di questo risultato e faccia da megafono alla notizia complimentandosi con la Regione che per fortuna, ha proseguito Serfilippi, lui e il PD non governano più. Il governo regionale di centrodestra ha aggiunto, nonostante la difficile situazione ereditata e l'emergenza medici per carenza di programmazione sta riformando la sanità con un cambio di passo netto rispettando quanto promesso nell'ultima campagna elettorale. E sempre notizia di oggi che nell'assa di Pergola e Urbino sono in arrivo nuovi infermieri, infatti l'azienda sanitaria ha inviato 33 telegrammi finalizzati all'assunzione di 13 infermieri a tempo determinato da assegnare nelle prossime settimane nelle strutture appartenenti all'ex Arevasta 1. L'arrivo di nuove risorse consentirà di ripianare il debito di figure professionali dovuto ai pensionamenti o trasferimenti che si sono succeduti e che fino ad oggi non erano ancora stati sostituiti. Dalla sanità al museo della via Flaminia a Fano un centro didattico che consente a residenti e turisti di porsi alla ricerca delle testimonianze romane presenti nel territorio. Un centro che sta per essere rivitalizzato dall'assessorato alla cultura del comune di Fano e dalla fondazione Marche Cultura. Il servizio di Massimo Foghetti. All'apparenza è spoglio, entrando nel museo dell'antica consolare Flaminia situata nell'ex chiesa di San Michele accanto all'arco di Augusto a Fano ci si mette in un ambiente privo di reperti. Non vi sono anfore, lapidi, oggetti di tipo archeologico ma vi sono strumenti dotati di alta tecnologia che consentono di conoscere tutti i siti della valle del Metauro e oltre, oltre il furlo dove si trovano testimonianze romane. Una scoperta entusiasmante che attraverso ricostruzioni e mappe consente al visitatore di immergersi in un'atmosfera di 2000 anni fa attraverso un percorso a ritroso. Sì, noi stiamo facendo un percorso di valorizzazione dei beni museali e quindi abbiamo cominciato in questo inverno col museo del Palazzo Malatestiano e adesso col museo della Flaminia e quindi siamo in visita con la fondazione Marche Cultura per vedere quanto è stato fatto negli anni a livello di digitalizzazione come poterlo implementare e come poter far squadra. Si può avere la tecnologia migliore del mondo e si possono avere le opere d'arte inestimabili, più apprezzabili e belle del mondo ma se non lo fai sapere, se non coinvolgi la città e anche i turisti diventa difficile. Quindi stiamo facendo come amministrazione un percorso a tal fine. Il mio obiettivo è anche quello di coinvolgere la città e far riscoprire quelli che sono i nostri beni museali quindi stiamo ragionando su come coinvolgere al meglio famiglie, persone e farle rientrare in questi posti preziosi a volte un po' poco frequentati ma in realtà quando le persone arrivano le apprezzano sempre tantissimo. E nei suoi intendimenti programmatici, Assessore, c'è una priorità che vuole evidenziare? La priorità è appunto quella di rendere più visitabile e di abbattere quanto prima le barriere architettoniche dove sono presenti. Nel museo della Via Flaminia abbiamo un ingresso senza barriere, il museo del Palazzo Malatestiano non lo è ma stiamo lavorando e a fine mese presenteremo già delle novità. Il museo è di tutti, deve essere di tutti e questa è la nostra priorità. Le elaborazioni tecnologiche, le ricostruzioni virtuali dell'antica Fanum Fortune si devono al Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Architettura dell'Università Politecnica delle Marche di cui insegnante di disegno e rilievo è il professor Paolo Clini. Il Museo della Flaminia è stato un museo all'avanguardia quando lo è stato creato e lo è ancora oggi. Cosa si può fare per valorizzarlo? Ma diventa una sorta di laboratorio tecnologico dove si sperimenta il nuovo valore del patrimonio digitale e da questo punto di vista, ripeto, può diventare un modello non solo marchigiano. Occorrono quindi nuove tecnologie, nuovi metodi per la scoperta del territorio? Beh, qui già devo dire che il livello di tecnologia è molto molto alto però certo la tecnologia evolve, sicuramente occorre un adeguamento di quel tipo accompagnato ad un adeguamento di contenuti. E il Politecnico delle Marche sta studiando qualcosa di interessante ed innovativo a questo proposito? Adesso stiamo molto lavorando per questo tema nuovo dei virtual movie cioè sulla possibilità di portare le persone non solo a vedere in maniera digitale i luoghi e i manufatti ma a entrarci dentro. Quindi questa è un po' la nuova frontiera che poi pensiamo di portare anche qui. Un sostegno in più viene dato dalla Fondazione Marche Cultura rappresentata da Desi Denardis. La Fondazione Marche Cultura sta gestendo un progetto europeo Rasmus Plus dal titolo Museo Next. Il Politecnico appunto è l'altro partner e la Grecia, la Croazia e la Spagna. Stiamo cercando di valorizzare la figura proprio del curatore digitale all'interno dei musei. In questo progetto oltre a una formazione per la regione ci sarà anche un progetto digitale che faremo all'interno del Museo di Cagli. Fondamentalmente ripercorre non solo la questione di Cagli ma tutta la Via Flaminia appunto partendo da Fano e quindi eccoci qui a ripercorrere un po' i contenuti che serviranno al progetto. Torna nella parrocchia di Santi Pietro e Andrea la tradizionale festa di Sant'Antonio. La cerimonia prevede una Santa Messa alle ore 9.30 celebrata nella chiesa di Carignano dal Vescovo Armando Trasarti. A seguire la processione con la partecipazione del complesso bandistico Città di Fano si proseguirà con la benedizione degli animali e con una colazione contadina offerta ai partecipanti. Benedizione degli animali anche in piazza 20 settembre a Fano. Il momento religioso sarà ufficiato domenica alle 10.30 dal parroco del Duomo Don Giorgio Giovanelli. Seguirà la distribuzione dei panini e dei biscotti benedetti. Cambiamo argomento. Dopo l'accordo sottoscritto tra i carnevali storici italiani per la candidatura a patrimonio UNESCO oggi si è tenuto un importante incontro a Roma per portare avanti il percorso iniziato nove mesi fa. Un'occasione anche per raccontare storie e tradizioni dei nove carnevali che fanno parte della rete. Ce ne parla l'assessore agli eventi e al turismo del comune di Fano Etienne Lucarelli. Continua il percorso di candidatura del Carnevale a patrimonio immateriale UNESCO ed oggi direi che è una giornata anche per noi storica oltre importante perché siamo qui nelle sale dell'Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale del Ministero dei Beni Culturali a Roma insieme a nove città del Carnevale per un workshop, un incontro con le antropologhe proprio del Ministero per continuare questo importante percorso. Quindi un'azione che si solidifica, una conoscenza con altre nuove città del Carnevale che ci portano a scambiare nuove pratiche e anche a far crescere il nostro Carnevale. Insomma un percorso importante con un obiettivo, quello di conoscerci insieme e magari di portare i Carnevali italiani al riconoscimento di questo patrimonio importante dell'umanità. Manuel De Marchil, 27enne fanese affetto dalla sindrome di Down, ieri ha donato 10 penne per l'anno di Pesaro, capitale italiana della cultura. Riportano i colori di Pesaro 2024, ha detto Perugini, presidente del Consiglio Comunale. Contengono la sapienza e la creatività di un artigiano che ha fatto della sua passione un lavoro riconosciuto a livello internazionale e sono il simbolo di una storia di impegno e di riscatto dagli stereotipi. Queste opere straordinarie, a concluso, saranno consegnate ad ospiti, artisti e personalità di rilievo che in quel periodo faranno visita al territorio. Ora torniamo a parlare del volley della Befana perché oggi pomeriggio è stato consegnato il ricavato dell'evento alla Fondazione Gio a favore di progetti rivolti all'interazione e al miglioramento della qualità di vita delle persone con disabilità. Dal 3 gennaio dove abbiamo fatto l'evento del volley della Befana abbiamo fatto tutti i conteggi precisi e dall'assegno finto che avevamo dato all'associazione nella serata stessa Oggi materialmente abbiamo avuto l'occasione di rivederci e donare proprio in maniera materiale i soldi all'associazione beneficiaria. Ricordiamo quant'è l'importo? Siamo riusciti ad accogliere 4.000 euro grazie veramente al contributo della sottoscrizione ai premi della scuola Filippo Montesi dell'ingresso offerta all'interno del palazzetto durante la serata perciò direi veramente tanta benemolenza tanta bontà dalla parte della cittadinanza di Fano che ha fatto sì che la cifra sia stata importante. Tutti contenti del buon successo poi della serata stessa un evento che ha portato dentro il palazzetto tanta gente c'è stato veramente il sold out come i 10 anni in questa parte non si era mai visto e sicuramente la presenza di Davide Mazzanti dell'attore nazionale femminile ha fatto sì che le persone fossero più attratte dall'evento e direi che addirittura si può anche dire che nel palmaresse di Davide, di Mazzanti il primo trofeo dell'anno visto che allenava l'Avis e la squadra che ha vinto è venuto dalla serata del volo della Befana. A nome di Open House e di Fondazione Gio mi sento di ringraziare tutte le persone che sono venute al palazzetto e che hanno preso parte a quella che è stata una bellissima serata di solidarietà grazie a chi si è speso materialmente per organizzare l'evento grazie a Piero per aver pensato a noi come beneficiari della serata è stato importante per noi perché abbiamo nuovamente avuto l'opportunità di presentare quello che facciamo e di raccontare quello che piano piano stiamo cercando di costruire infatti con i fondi raccolti continueremo a portare avanti quello che è il nostro progetto principale attualmente che sono i nostri laboratori di avvio al lavoro i nostri Open House Lab quindi davvero grazie ancora per questa bellissima opportunità e come vi abbiamo già detto vi aspettiamo a Open House quindi venite a trovarci grazie e ha riscosso un ottimo successo anche l'iniziativa un dono sotto l'albero organizzata dall'Avisfano in collaborazione con la Proloco e sette associazioni del territorio l'evento ha visto la realizzazione di una pesca di beneficenza con ben 700 premi donati dai commercianti della città e da privati cittadini che hanno voluto contribuire alla riuscita del risultato il ricavato di 27 euro è stato interamente donato all'associazione Prima del Tempo che garantisce supporto morale psicologico e materiale ai bambini nati prematuri e alle loro famiglie questa donazione permetterà all'associazione di portare avanti il progetto Home Visiting cioè l'assistenza domiciliare gratuita e questa era l'ultima notizia del nostro telegiornale vi ricordo che lunedì sera a primo cittadino sarà nostro ospite il sindaco di San Costanzo Filippo Sorcinelli mentre martedì sera subito dopo il Tg partirà il nuovo programma di sport condotto da Andrea Amaduzzi e per questa sera è tutto grazie per averci seguito e buona serata grazie per aver guardato il nostro canale